Buonasera a tutti e benvenuti all'oroscopo più famoso d'Italia. Dai, ora oroscopiamo un po'. Ariete. Già me l'hai rotto il cazzo. Ma no, abbiamo iniziato adesso. E beh, perché abbiamo iniziato? Ma l'Ariete che t'ha fatto? E tu a me già me l'hai rotto il cazzo. Vabbè, andiamo avanti. Toro. C'ha i corni. Gemelli. Meglio soli che mal accompagnati. Cancro. Vaffica, tonto. Leone. Bello di Roma. Vergine. Te l' dico anche sto mese. Tromba, che ora? Bilancia. Testa de cazzo nucleare. Ma no, poraggi. E perché? Scorpione. Sono sorche, col pelo nero lungo e riccio. Sagittario. È un bel coglione. No. E perché? Perché? Ma perché te l' dico io? Ma è possibile? Oh, sarà un coglione? È un coglione, è un coglione. Vabbè. Capricorno. Vaffanculo, 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 vaffanculo. Acquario. Sei uno stronzo cacato per forza. Pesci. Non abboccate. Da che? Da sto cazzo. No. Ebbene sì, siamo giunti al termine. Io vi auguro una buona fortuna, ma soprattutto... Oroscopate tanto. Sì. Dai, ora oroscopiamo un po'. Sì. Che vuol dire sì? Fa una faccia un po' più convinto. Tu sei convinto? Io so convinto, ma tu fa la faccia più... Oroscopiamo un po' e fa. Sì. Buonasera e benvenuti a tutti. Sta per partire l'oroscopo più atteso di questo mese. E ora bene. Ma vabbè, fa la scuola, hai fatto un casino. O no? Fa per bene, però. Se ci voglia, bene. Se no, vai a dormire diretto. Guarda che hai fatto. E mi sa che ci vuol dire. Ma che magno? Buonasera a tutti. E benvenuti all'oroscopo più atteso di questo mese. Ma ora oroscopiamo un po'. Scusa, eh. Così era qua. Provaci. Così. Oroscopio ha un'ora, capita? Eh, basta. Buonasera e benvenuti. Oggi. No, come avevo detto. Scorpione. Sole. Sì, mare. Sole, mare e montagna. Ma cosa è lì? Solo sorche col pelo nero lungo e riccio. E beh, la montagna quel c'è. La montagna c'entra niente. Ma tu hai detto sole, io tu hai detto mare e montagna. Avanti. Scorpione. Solo sorche col pelo lungo e riccio. E il nero dovremmo lasciare. Ma cominciamo. Ebbene sì, siamo giunti al termine. Tanti saluti, tanta fortuna, ma soprattutto... E non roscopate tanto. Siamo giunti al termine. Ebbene sì, siamo giunti al termine. buona fortuna ma soprattutto non roscopate tanto ma che vuol dire e quello che vuol dire o roscopate no si no ma soprattutto non roscopate tanto ma soprattutto non roscopate tanto ebbene sì siamo giunti alla fine io vi auguro una buona fortuna o roscopate tanto